Quando esce il successore di un modello che ha stupito, è facile che l'asticella delle aspettative sia molto alta. Così è stato per Ulefone B-Touch 2, secondo modello della casa cinese che abbiamo testato a lungo per questa recensione completa. Questo modello porta poche novità, se vogliamo, rispetto al predecessore. Infatti non rinnova il comparto hardware, ma principalmente monta una batteria con capacità maggiore, arriva con la versione 5.1 preinstallata e porta la risoluzione del display alla qualità full HD. E' questo il grande dilemma. Basta decretarne l'acquisto? Sono realmente dei vantaggi? Qui le risposte. Ringraziamo GrossoShop.net per il sample in prova. Il design di questo cianafonino è rimasto pressoché invariato rispetto al precedente modello, con il fulcro dell'attenzione concentrato totalmente sul lettore di impronte digitali posto come tasto centrale sotto al display. Esteticamente Ulefone B-Touch 2 si presenta come un modello molto piacevole, caratterizzato da linee morbide che ricordano senza troppa ambiguità iPhone 6 e che, tutto sommato, risultano molto piacevoli. Il peso è di 160 grammi, ben distribuito lungo la superficie, anche se non è del tutto trascurabile. Considerata però la diagonale dello smartphone, riteniamo che il peso sia adeguato alle dimensioni, che sono pari a 158,1 x 77,4 x 8,60 mm di spessore. Per ciò che concerne le linee estetiche, non si può non apprezzare la cornice in metallo e il vetro frontale leggermente curvo, la famosa tecnologia Gorilla Glass 3 applicata appunto al vetro curvo 2.5D. La curvatura è leggera, ma si fa sicuramente apprezzare nella visione perpendicolare. Purtroppo, i limiti tecnici che avevamo osservato nel modello precedente sono tuttora presenti, infatti i tasti frontali non sono retroilluminati, la fotocamera sporge un po' eccessivamente e al tempo stesso la cornice nera intorno al display compare lo stesso una volta acceso. Non si tratta di particolari limitazioni nella vita quotidiana, ma si tratta di aspetti che è giusto far osservare durante una recensione. Per il resto vi invitiamo a vedere la nostra video recensione sull'Ulofone B-Touch che mantiene lo stesso design. Il display dell'Ulofone B-Touch 2 rappresenta una delle più importanti, o addirittura l'unica, novità di questo modello, poiché la diagonale da 5.5 pollici stavolta ospita una risoluzione Full HD da 1920x1080 pixel. A nostro avviso su questo tipo di diagonale rappresenta sicuramente un vantaggio, poiché la densità passa finalmente a 480 ppi e si può sicuramente notare un miglioramento della resa delle immagini. La qualità di questo pannello ci aveva convinto abbastanza anche nel modello precedente, segnalando i principali problemi proprio nella risoluzione un po' scarsa vista la diagonale così ampia. Invece con questo miglioramento possiamo confermare che il display è ben dotato dal punto di vista della risoluzione e della qualità dei dettagli. Però possiamo anche riprendere, diciamo, quanto detto già in precedenza, angoli di visione sufficientemente ampi, profondità dei neri e dei contrasti nei limiti di quanto offrono gli attuali schermi sharp e intensità della retroilluminazione buona ma non tale da garantire una perfetta visibilità all'aperto, come potete vedere. In generale si configura come uno smartphone dotato di un buon display con il primo vero miglioramento rispetto al modello passato. In particolare se amate guardare filmati sullo smartphone o gestire immagini ed altre risoluzioni, il risultato sarà sicuramente di vostro gradimento. Nulla da segnalare rispetto all'ulephone bit touch perché troviamo un chip Mediatek 6752 costituito da 8 core che viaggiano alla frequenza massima di 1.7 GHz e che basano tutte le loro fortune sull'architettura a 64 bit. Non cambia nemmeno la GPU un'arma Mali T760 MP2 e troviamo anche 3 GB di memoria RAM con 16 GB di memoria interna che è comunque espandibile tramite una microSD fino a 64 GB. Nei test al benchmark che trovate ovviamente sulla nostra recensione testuale su tecnologici.net non ci sono novità in quanto a punteggi, almeno rispetto al passato. Non l'ha da eccepire anche sul fronte della connettività perché ulephone bit touch 2 rappresenta un cenefinino ben connesso. Il GPS funziona in modo test, onesto, agganciando i satelliti in circa 5-10 secondi al primo tentativo e poi ottiene il fix anche in tempi più rapidi una volta che è avvenuto il primo fix. Siamo intorno ai 2-3 secondi. Per il resto sono confermate tutte le considerazioni che abbiamo già rilevato per ulephone bit touch. Infatti questo smartphone supporta la gestione del dual sim con completa appunto di reti 4G compresa la frequenza 800 MHz, quella famosa per wind e che quindi garantisce anche la possibilità di un'ottima copertura per gli utenti che utilizzano questo operatore. Va segnalato solo che il wifi, almeno nell'esemplare che abbiamo utilizzato ai fini delle recensioni, ha avuto qualche piccola incertezza perdendo il segnale in modo più deciso quando ci si allontanava dal modem. In generale però non si può dire null'altro per il bluetooth 4.0 o per il supporto OTG che completano comunque un comparto molto ricco di funzioni e che ci permette di apprezzare questo smartphone. Ottimo invece il comportamento del lettore di impronte digitali che almeno su 10 tentativi ha sempre funzionato bene tranne qualche rarissima occasione. Se vi piace videogiocare nessun problema di sorta, anzi possiamo dire che la GPU ARM Mali T760 si comporta molto bene nella vita quotidiana anche per gli amanti del videogaming. In questo caso l'abbiamo testato con giochi come Real Resin 3 o Dead Trigger 2 che consideriamo tra i più pesanti disponibili sullo store ma in generale se dobbiamo fare appunto un'osservazione è proprio riferita al surriscaldamento. Infatti lo smartphone dopo circa 10-15 minuti vede salire la sua temperatura interna fino a 45 gradi. Dopo mezz'ora siamo arrivati intorno ai 50 gradi e abbiamo deciso di interrompere il gioco perché comunque scaldava moltissimo nella zona circostante la fotocamera dove presumibilmente è posto il processore. La fotocamera è rimasta la stessa di Ulefone B-Touch pertanto è davvero difficoltoso utilizzare parole diverse per le stesse osservazioni. Abbiamo una fotocamera da 13 megapixel posteriormente e una da 8 megapixel frontalmente e in particolare quella posteriore sfrutta il più classico dei sensori utilizzati su smartphone cinesi vale a dire il Sony IMX214 che offre prestazioni piuttosto standard ma che in condizioni di buona luce può eseguire degli ottimi scatti. Gli scatti potete visualizzarli direttamente a dimensioni originali sulla recensione testuale di tecnologici.net. L'applicazione è invece quella standard stock di Android che non presenta differenze o personalizzazioni da parte del produttore e personalmente riteniamo anche che debba essere rinnovata per aggiungere un po' di sprint allo smartphone e per offrire qualche funzionalità aggiuntiva tale da caratterizzare maggiormente lo smartphone Ulefone. Novità dichiarata di questo smartphone era la versione 5.1 del software quindi stiamo parlando di Android Lollipop 5.1 e questo può essere effettivamente rilevato dalle info sul telefono. In realtà l'SDK quindi il software deployment kit che è fondamentale per gli sviluppatori è ancora basato sulla versione 5.0 e si può definire quindi un aggiornamento monco e se vogliamo anche una certa diciamo fregatura nei confronti dei consumatori. Le novità software delle versioni 5.1 come ad esempio le animazioni sono infatti assenti, inoltre generalmente la personalizzazione del produttore è ridotta al minimo e quindi è facilissimo non notare alcuna differenza rispetto al modello passato e ci si chiede anche il perché di questa mossa da parte di Ulefone. Generalmente non troviamo lacune nell'esperienza d'uso ma essendo uno dei punti chiavi che avevamo rilevato anche nelle passate recensioni è abbastanza chiaro che non ci sono novità vere sul software di Ulefone B-Touch 2. Altra novità fasulla riguarda la batteria segnalata come un'unità da 3050 mAh sia da scheda tecnica che fisicamente sull'unità in questione. È facile però accorgersi che l'autonomia non risponde proporzionalmente a una batteria di elevata capacità e in realtà abbiamo ravvisato che effettivamente la batteria è rimasta quella da 2550 mAh che avevamo rilevato sul primo modello. Anzi complice la risoluzione più elevata il risultato finale è addirittura più basso ed è difficile anche superare le 3 ore di schermo acceso raggiungendo al massimo le 3 ore e 10 minuti. Ringraziamo ancora GrassoShop.net per il sample in prova in particolare potrete trovarlo al prezzo di circa 198 euro sul sito sia nella colorazione bianca che in quella nera ed è molto interessante osservare che la qualità della scatola di vendita è molto buona. Particolarmente apprezzato è sicuramente il cavo micro USB USB di tipo piatto molto comodo con anche la possibilità di agganciarlo una volta utilizzato. In conclusione prendendo un iPhone B-Touch 2 come modello a sé stante avrebbe anche convinto però confrontato col predecessore ci si chiede del perché è stato prodotto dopo così poco tempo dall'uscita. In particolare è uno smartphone convincente perché comunque monta uno schermo molto molto buono ma al tempo stesso ci chiediamo perché è stato detto che appunto montava una versione di Android più recente perché la batteria non è effettivamente di una capacità più elevata. Questi sono dei contro che ci portano ad ingrandire l'antenne di ingrandimento ogni volta che avremo a disposizione uno smartphone o le phone. Nel frattempo continuate a seguirci sempre su tecnologici.net ed iscrivetevi al nostro canale. A presto! Grazie a tutti!